È un progetto particolare che dà una grossa opportunità ai ragazzi che sono sotto i 25 anni di età, perché questo percorso formativo che dura tre anni permette loro, oltre all'assolvimento di un obbligo formativo, ma permette dal secondo anno l'inserimento nelle aziende attraverso la stipula di un contratto di apprendistato di primo livello, per cui il ragazzo già dal secondo anno avrà un contratto di apprendistato con le aziende che aderiscono al progetto. È una grandissima opportunità per i ragazzi lavoratori, perché normalmente i percorsi triennali prevedono soltanto degli obblighi formativi, ma in questo caso il ragazzo ha l'opportunità di affacciarsi nel mondo del lavoro. E alla fine del triennio l'azienda potrebbe anche optare per l'assunzione con il ragazzo con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Bisogna un po' uscire fuori dall'idea del muratore che sta lì, che mette i mattoni. Il muratore deve conoscere i progetti, i software, i computer, anche perché la tecnologia è andata molto in avanti. E allora abbiamo bisogno sempre di più di avere persone altamente qualificate. A giorni, diciamo, fra qualche mese dovrebbero partire i famosi lavori con gli incendivi dell'eco bonus che tutti conoscono e avremo bisogno di tanta manodopra, di tanta manodopra specializzata. Perciò io inviterei i giovani a entrare in questo mondo. Noi abbiamo anche, i nostri contratti sono tutti a tempo indeterminato, per il 95%. Non abbiamo contratti a termine oppure a tempo part time. Perciò abbiamo la retribuzione che è molto più alta dei metallomeccanici. Io, ripeto, faccio questo appello ai giovani di entrare in questo mondo.